Mister, un 5-1 che parla chiaro, un Verona che è venuto qui per chiudere subito la partita e praticamente c'è riuscito. Abbiamo cercato di chiuderla subito, di partire forte, perché sappiamo che è una squadra che si chiude molto bene e fortunatamente abbiamo trovato il gol subito, peccato poi per quel calcio d'angolo, ma direi che la partita l'abbiamo sempre avuta in mano noi, nonostante un campo veramente brutto dove era molto difficile giocare a calcio. Chi ha deciso di far tirare il calcio di rigore a Stefani Oxstrom? Ma onestamente è stata Fabiana, anche perché visto l'infortunio che aveva avuto era giusto che avesse possibilità di rifarsi, l'ha battuto bene, ha fatto gol e ci fa piacere. Sabato arriva una res a Roma che non è una squadra da prendere sotto gamba? No, avevamo sofferto parecchio a Roma, siamo riusciti a vincere, a fare un buon risultato e anche una buona partita, però è una squadra compatta, una squadra che sa ripartire bene in contropiede, bisognerà rimanere concentrati e certo però che siamo in un buon momento, segniamo con una certa facilità, ci difendiamo bene, per cui credo che sarà sicuramente una bella partita anche se noi la vogliamo vincere a tutti i costi. Claudio, partita abbastanza tranquilla, anche se poi c'era stato quel gol strano da parte del Chiesielli, insomma è un Verona che prosegue nella sua corsa. Fortunatamente Chiesielli oggi non ci ha portato sfortuna come l'andata, dove abbiamo giocato una buona partita l'andata ma abbiamo subito il gol alla fine, oggi il gol è venuto subito e noi solitamente quando segniamo subito poi la partita prende una piega positiva, quindi è andata bene. Volevate vincerla subito, Memori, anche del risultato incredibile dell'andata? Esatto, per noi era importante vincerla e segnare subito, come ho detto prima, è andata bene anche se il terreno non ci ha permesso di giocare come vogliamo giocare noi, palla a terra e velocemente, insomma. Stefani, c'è qualcosa da raccontare in questa partita? Perché non capita tutti i giorni per un portiere di siglare un calcio di rigore in maniera impeccabile? No, non è la prima volta che tiro un rigore, mi piace anche, io e Paola facciamo spesso durante l'alimento così lo facevo volontieri. Parliamo anche del gol preso, direttamente da calcio d'angolo, insomma non capita spesso neppure questa cosa? No, ho tirato bene anche, forse ho avuto un po' di aiuto di vento, però salto un po' troppo con la schiena dietro così posso anche cercare di fare un'altra maniera. Oggi volevate vincere, insomma, anche per cancellare quel risultato dell'andata? Sicuramente non è facile in questo campo, in questa squadra, però abbiamo fatto il nostro lavoro e basta così.